Sindaci e amministratori locali portino a Roma la questione ospedale di Giarre. E' quanto scrive in una nota Alberto Cardillo, coordinatore di Fratelli di Tarni e Allianza Nazionale, presente fra gli altri ieri al nostro comio di Giarre al blitz fatto dai sindaci del distretto. L'azione congiunta dei sindaci e degli amministratori dei comuni del distretto sanitario di Giarre presso l'ospedale Dieci Reale, scrive Cardillo, è un primo positivo passo di una nuova fase in cui certamente va scavalcata la regione e tutti i rappresentanti delle istituzioni palermitane che hanno tradito il nostro territorio, i quali tra l'altro sono già in campagna elettorale e quindi la risposta l'avranno dalle urne. A margine del blitz di ieri sera, scrive ancora Cardillo, suggerito al sindaco di Giarre, Angelo Danna e a tutti gli altri amministratori presenti di portare con forza la questione nelle stanze del governo romano. Perché se è vero che la competenza della sanità spetta alla regione, è anche vero che la legge impone che lo Stato sorvegli sulla garanzia degli standard minimi di accesso al sistema sanitario, standard falessemente violati nel comprensorio giarrese. Il governo romano, per esempio, si è tanto preoccupato di impugnare per più volte la legge regionale sulla ridefinizione delle province. Perché, si chiede Cardillo, tanta attenzione? Non c'è sul diritto alla salute dei cittadini? Bene, ce n'è abbastanza perché tutti i sindaci, amministratori locali e cittadini che in questi anni si sono battuti per la salvaguardia dell'ospedale di Giarre si presentino a Roma andando via solo quando il governo esprimerà chiaramente la propria posizione, indicando quale indirizzo e raccomandazione vorrà dare la regione.